Non sempre i programmi scolastici arrivano ad affrontare il punto di cui vi vorrei parlare nella lezione numero 6, sperando che il percorso fin qui vi abbia in qualche modo soddisfatto e soprattutto incuriosito. A un certo punto nel linguaggio contemporaneo subentra un aggettivo che in qualche modo è sostantivizzato, concettuale. Che cosa vuol dire concettuale e soprattutto che cos'è l'arte concettuale? Beh, presto fatto, la prima cosa è che se noi pensiamo al concetto ci vengono in mente altre discipline, la filosofia, la matematica, la logica, cioè discipline che in qualche modo hanno a che fare con il primato della mente, il primato della testa. Chissà perché ci portiamo dietro fin dai tempi antichi, scolasticamente parlando, questa immagine così romantica dell'artista, genio sregolatezza, dell'artista che ha difficoltà a rapportarsi con il genere umano, ma soprattutto dell'artista al di là del suo carattere, che vive di grandi intuizioni, con l'artista che mette nell'opera il proprio stato d'animo, la propria unicità. Spesso, per esempio, all'arte si sovrappone questo verbo, l'artista crea, l'artista crea, ma forse è Dio o chi per esso a creare, l'artista realizza, elabora, pensa, l'artista pensa, l'artista pensa, l'artista fa, per mutuare una famosa espressione, la scimmia pensa, la scimmia fa. L'artista pensa, l'artista pensa perché l'opera d'arte si distingue da qualsiasi altra forma di intrattenimento, se mi passate il termine, ma soprattutto di elaborazione di un manufatto, perché dietro c'è una teoria importante, anzi neanche dietro, perché si regge su una teoria, quindi su una motivazione molto molto precisa, il che significa che l'arte, a partire dal secondo novecento, in modo particolare, ma non soltanto, in fondo era già un atteggiamento che noi ci portavamo appresso dall'inizio di questo ventesimo secolo, l'arte sviluppa un pensiero e sviluppandolo attraverso tutta una serie di materiali nuovi, alcuni che addirittura non hanno più la condizione dell'elaborato, cosa succede? Che non si potrà dire all'artista che è bravo, che è capace, che è tecnicamente raffinato, che segue una linea accademica, no, l'artista è semplicemente uno che dovrà convincerci della bontà e della necessità delle sue teorie. Guardate, c'è un'opera che in qualche misura pone le basi di questo ragionamento a cui sono arrivato fin qui, un'opera di Josef Kossuth, un artista nativo dell'est europeo e che però a tutti gli effetti è americano, che all'inizio degli anni settanta presenta questo lavoro, three chairs, tre sedie, ovvero una sedia, l'oggetto, come quella su cui siamo seduti noi in questo momento, la sua rappresentazione fotografica, la definizione che noi troviamo sul dizionario della lingua inglese. Questo perché? Perché l'arte a tutti gli effetti è un codice linguistico e come tale si sottopone a determinate regole. Se noi visualizziamo un oggetto, sedia, chair in inglese, nel momento in cui chiunque nel mondo vedrà questo oggetto capirà che si tratta di una sedia, perché il termine chair, sedia in italiano, ha un significato, l'unione delle lettere portano ad un significato che è quello a cui noi siamo abituati, cioè l'immagine della sedia. L'oggetto spesso ce l'abbiamo con noi, ma se non ce l'avessimo e noi volessimo comunicare con una persona che non parla la nostra stessa lingua, semplicemente gli mostriamo la fotografia, la riproduzione della sedia, ok? E tutti quanti capiranno che si tratta di una sedia così come quando si va negli aeroporti, speriamo di tornarci presto a fare qualche bel viaggetto, magari il prossimo autunno e abbiamo bisogno di andare in bagno, ma siamo all'aeroporto di Tokyo e non conosciamo il giapponese, però vediamo l'iconcina dell'omino e della signorina che in qualche modo ci indicano che lì sta la toilette. Senza l'immagine c'è però una convenzione linguistica, quindi un insieme di lettere, il cosiddetto significante, come avrebbero brillantemente espressi i semiologi, la parola chair uguale sedia viene definita da una serie di indicazioni che il dizionario della lingua inglese riporta. Quindi sono tre livelli di linguaggio e allora qualcuno di voi potrebbe dirmi sì ma cosa c'entra con l'arte? No, l'arte è proprio questo, l'arte è essenzialmente linguaggio. Non solo, in un processo di completa smaterializzazione dell'opera noi siamo di fronte ad artisti che negli anni 60 in particolare cominciano a sperimentare il modo di attraversare questo limite dell'opera come manufatto, dell'opera così come noi l'abbiamo sempre intesa fin qui, non più un quadro, non più una scultura, non più neanche per certi versi un'installazione. Pensate per esempio a Piero Manzoni, noto artista italiano morto giovanissimo tra l'altro, di cui spesso si ironizzano sulla merda d'artista, cioè su quei barattolini firmati, numerati e certificati contenenti appunto un certo numero di grammi di cacca in scatolata nel lontano 1961, Manzoni morì nel 63, di fronte alla quale noi spesso ci chiediamo, o qualcuno prima di noi si è chiesto, ma è effettivamente arte questa roba qui? Certo è arte nella misura in cui è arte del corpo, è un'espressione che l'artista cerca di trasmettere e che non è visibile, anche questo è molto interessante, che è nascosta ai nostri occhi, ma in fondo a noi cosa importerebbe aprire una scatola per vedere se dentro c'è una cacchetta conservata, probabilmente polverizzata da lontano 60, 61? No, il tema è esattamente un altro, devi crederci e devi portarti al ragionamento. L'operazione è frutto di un ragionamento, è una parte del corpo, lo scarto, tra l'altro venduta a peso d'oro, letteralmente, lo scarto di ciò che noi andiamo dunque a produrre. Manzoni c'era arrivato attraverso tutta una serie di riflessioni, tra cui gli acrom, cioè dei quadri, tra virgolette, bianchi, ma quel bianco acromatico che non ha più colore, quindi la negazione della pittura, fino a tutta una serie di operazioni che riguardavano in qualche modo se stesso il fiato e poi infine la merda. Manzoni che era andato a Parigi a vedere una mostra alla galleria Iris Claire nel 1957 dove Yves Klein, artista francese del nouveau realism, aveva riempito di vuoto la galleria, non c'era niente da vedere, non c'era assolutamente niente da usare, da ascoltare, nessun senso era previsto, ma l'artista vendeva porzioni di vuoto, vendeva l'assenza dell'opera. Ecco, siamo in questo periodo storico qui molto preciso, ovvero di un'arte che tende sempre di più a smaterializzarsi, a cercare altri significati. Per esempio il codice può essere quello della parola scritta, allora vedete l'americano Lawrence Wiener, per esempio, che è ancora attivo, che scrive delle frasi, dei truismi veri e propri, basterebbe andare al castello di Rivoli per vedere proprio sulla tromba della grande scalinata le scritte di Lawrence Wiener, che in qualche modo ancora una volta richiamano la lettura, il ragionamento, la teoria. Ecco, è un'arte che non ha bisogno di essere contemplata, ma sulla quale ci dobbiamo soffermare attraverso dei ragionamenti. Alcuni mesi fa purtroppo è scomparso John Baldessari, che vinse il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia nel 2009, un artista che era stato anche un importantissimo docente, quindi formatore di una serie di studenti molto molto preparati alla Cal Arts School di Valencia in California. Baldessari è un artista che teorizzava purtroppo su tutto, tra cui anche sulla pittura. Un suo quadro, lo chiamiamo quadro perché è un formato bidimensionale da parete, si intitolava examining picture, cioè esaminando la pittura, e dava tutta una serie di caratteristiche teoriche su cosa lui intendesse per pittura. Quindi non l'immagine, non il segno, ma semmai la definizione, la logica che ci porta in qualche misura ad arrivare a questo. Pensate che Baldessari come gesto proprio definitivo rispetto ai suoi lavori giovanili a un certo punto li bruciò tutti e cominciò ad occuparsi di immagini sbagliate, wrong, immagini che nessuno avrebbe utilizzato all'interno di un'opera d'arte, proprio per capire anche quali potessero essere i limiti e i vantaggi dell'opera rispetto al suo eventuale ragionamento. Ecco, tutta la teoria, ma questo vale anche per il minimalismo di Donald Judd, di Carl Andre, di Frank Stella, di Dan Flavin, eccetera, di grandi artisti minimalisti americani che evidentemente non vogliono in nessun modo far prevalere nell'opera qualsiasi tipo di soggettivismo, qualsiasi tipo di stato d'animo e puntano invece che cosa? Alla neutralità più assoluta e che qualsiasi tipo di opera punta sempre di più alla sua teoria, al ragionamento. Quindi non più contemplazione, ma ragionamento. Questo è un dato molto importante perché spiega davvero un'avventura culturale, quella degli anni 60, degli anni 70, che detterà a tutti gli effetti le basi per il nostro tempo, di cui andremo a parlare certamente nelle ultimissime lezioni. Ma è molto importante che gli studenti sappiano, in generale tutte le persone che si avvicinano all'arte in maniera, per così dire, conoscitiva, quindi senza l'esperienza di un addetto ai lavori, che l'arte non sfugge a nessun altro tipo di regola che non sia applicabile a qualsiasi altro campo della cultura. Questo deve essere molto molto chiaro, nella letteratura, nel cinema, nel teatro, nella filosofia che voglio dire è ancora più speculativa. Il ragionamento, l'intenzione teorica pongono davvero le basi per una novità, una novità storica che ci allontana anni luce dal concetto romantico che la scuola in qualche modo ha voluto trasmetterci, che non significa che gli artisti non possano continuare a dipingere, lo abbiamo detto già quando parlavamo della metafisica, in opposizione al futurismo, non è affatto detto che l'artista non si possa in qualche modo dedicare a tutta una serie di forme linguistiche che ha ereditato dalla tradizione, ma anche in quel caso lì la teoria sarà prevalente. Io voglio sapere perché tu stai facendo questa cosa e che cosa mi vuoi dire attraverso le cose che vuoi fare. Ne avevamo già parlato a proposito dell'epoca pop e chiaramente questo discorso va ulteriormente a radicalizzarsi intorno a quel 1968 che diventa davvero una data epocale per la fine di un certo tipo di mentalità legata agli anni del benessere, del boom economico eccetera eccetera, invece va a registrare le prime grandi tensioni sociali del secondo dopoguerra, soprattutto per ciò che riguarda le generazioni più giovani, gli operai, gli studenti, sono protagonisti dei moti del 68 in Italia come in Francia come anche nelle università americane. Quel discorso si farebbe lungo, ma certamente le forme d'arte più evoluta e più per così dire al passo con i tempi, l'arte che voleva essere contemporanea a tutti gli effetti, non può far finta che nulla stia succedendo, non può così rinchiudersi in una sorta di torre d'avorio distante dal mondo e distante dalla storia. Nel 1967, quindi diciamo nell'imminenza dell'esplosione del 68 in Italia l'arte povera diventa a tutti gli effetti uno dei movimenti prima nazionali poi internazionali che domineranno e ancora dominano per certi versi il panorama dell'arte attuale. Va detto subito che proprio nelle ultime settimane abbiamo dovuto registrare, ahimè, la perdita di Germano Celant, curatore, critico d'arte, forse il critico d'arte più importante tra quelli attivi in Italia dagli anni 60 al presente, che è stato colui il quale ha, tra virgolette, fondato l'arte povera, anche se non c'è un vero e proprio atto notarile tipo quello del manifesto del futurismo del 1909. Però c'è un articolo pubblicato su Flashart, la rivista che all'epoca davvero era considerata, diciamo, l'organo di stampa che dava davvero la direzione dell'arte, lo ha fatto per tantissimi decenni, ancora insiste per certi versi. Ebbene, il testo che accompagna l'uscita, prima uscita dell'arte povera, Germano Celant lo firma, lo intitola con questo slogan quasi, appunti per una guerriglia. Già, perché l'arte in qualche modo è legata al mondo, lo abbiamo appena detto, è un'arte politicamente impegnata, è un'arte che si svolge prevalentemente nelle grandi città industriali del nord, debutta a Genova, poi andrà a Bologna, ma di fatto il gruppo principale degli artisti dell'arte povera è torinese, o quantomeno operante a Torino, e ha una visione dell'arte che Celant indubbiamente era riuscito in qualche modo a trasmettere agli artisti che avevano cominciato a lavorare con lui, dove da una parte esiste comunque un forte legame con la tradizione italiana. Basti pensare a come Gianni Scunellis, artista greco, trapiantato fin da giovanissimo a Roma, abbia utilizzato materiali simili o molto simili a quelli di Alberto Burri, tanto per citarne uno, per esempio in certi casi come le sculture di marmo di Luciano Fabro, milanese, docente all'Accademia di Belle Arti di Brera per tanti anni, avevano in qualche misura riscoperto la classicità dei materiali, o forse il più concettuale di tutti, Giulio Paolini, che ancora prima della fondazione dell'arte povera per esempio elabora un'opera concettualmente molto molto importante, ovvero il giovane che guarda Lorenzo Lotto, che cos'è questo quadro, questa specie di quadro, in realtà non è un quadro, ma è la riproduzione fotografica in bianco e nero del dipinto di Lorenzo Lotto, pittore manierista lombardo tra 4 e 5 cento, in cui Lorenzo Lotto si autoritrae da giovane. Giulio Paolini che cosa fa? Riproduce il quadro e lo intitola giovane che guarda Lorenzo Lotto, cioè se stesso, punta tutta quanta la questione dell'opera sul tema della percezione, cioè del pubblico, siamo noi in qualche misura che diamo diritto di esistenza a un'opera proprio mettendoci davanti ad essa, ammirandola, ma facendo scattare un processo di natura concettuale, già perché l'opera in qualche misura si completa attraverso lo spettatore, lo spazio e il tempo, altro elemento fondamentale. Alighiero Voetti, torinese, che poi a un certo punto si trasferisce a Roma, anche lui, in questo giro dell'arte povera, per esempio, elabora un lavoro che a molti potrà sembrare eccessivamente strano, ma che in realtà dà un senso molto profondo alla nuova arte, all'arte contemporanea. Il lavoro si chiama lampada annuale ed è semplicemente un parallelepipedo, al cui interno c'è una lampadina che si accende per qualche minuto una volta all'anno. Già, ma quando? Tra un'ora? Tra un giorno? Tra una settimana? Tra un mese? Oppure noi siamo passati davanti a lei e lei si era appena accesa, per cui dobbiamo aspettare poco meno di un anno? E quanto tempo siamo disposti a stare lì, a guardarla nella speranza che si accende? Poi, alla fine voglio dire, quando si è accesa non abbiamo scoperto grandi cose. E beh, però questo è metaforicamente davvero il senso della nuova arte, ovvero l'arte si completa solo in determinate circostanze. È un accadimento che in qualche misura ha bisogno dell'elemento temporale per realizzarsi fino in fondo. Vi ho citato Paolini, vi ho citato Boetti come esempi di artisti dell'arte povera, ma certamente Mario Merz, che era il più vecchio dal punto di vista anagrafico, che veniva da un'esperienza pittorica legata addirittura all'informale, oppure a un certo tipo di figurazione persino realistica negli anni 50, con il gruppo di Germano Celent scopre una delle sue grandi caratteristiche culturali, ovvero formali, scusate gli igloo, queste grandi case a forma ovale che sono lontane da noi nel polo nord, e la serie di Fibonacci, questa serie numerica che lui con il neon, soprattutto con il neon, va a ripetere, a sovrapporre alle opere che andrà a realizzare, opere che sono spesso tra l'altro realizzate con materiali poveri come il legno, la carta, eccetera, eccetera. Per non dire di Michelangelo Pistoletto, che viene anche lui da un'esperienza pittorica, dei quadri fondo nero vagamente beconiani, per intenderci, ebbene Pistoletto scopre in prossimità dell'arte povera lo specchio, la serigrafia sullo specchio, in questo senso c'è anche un po' di pop per certi versi, però nel momento in cui hai di fronte questa grande lastra specchiante, tu in realtà ti ci rifletti dentro e diventi in qualche misura anche lì, compartecipe dell'opera stessa. E potrei continuare citando appunto Penone, Giuseppe Penone, artista in questo momento il più giovane dell'arte povera, in questo momento considerato tra forse i più importanti nell'arte italiana, che lavora con il legno e che in qualche modo fa da tradunione all'esperienza della Land Art, di cui vi parlerò a breve, oppure Giovanni Anselmo, con la sua idea di scultura che si avvicina sempre di più alla natura, Marisa Merz, moglie di Mario Merz, così delicata, così poetica, così quasi sfuggente, per certi versi, e Cunellis che nel 1969 espone da Fabio Sargentini, la Galleria Lattico di Roma, che non era un attico, ma era un garage, 12 cavalli vivi, 12 cavalli vivi. Oggi magari qualche animalista potrebbe storcere il naso, ma vi assicuro che nessuno di questi animali è stato trattato male, tutti quanti sono stati in realtà assolutamente difesi e protetti, però probabilmente oggi non si potrebbe fare. Perché Cunellis espone i cavalli vivi invece di rappresentarli con una fotografia, dipingerli come era stato nella tradizione della pittura romantica, quante figure equestri, per non parlare della scultura, eccetera. Perché se l'arte sempre di più deve avvicinarsi alla vita, l'arte non può rappresentare, ma l'arte deve assolutamente mostrarti la cosa vera. Ecco, tutte queste esperienze che noi raccontiamo insieme all'arte povera, tra l'altro portarono verso un nuovo tipo di mostre, verso un nuovo tipo di mostre dove la figura del curatore, vedi appunto Germano Cella, ma vedi soprattutto Harald Zeman, curatore svizzero, che nel 1969 realizza questa fantastica mostra, When Attitudes Become Form, alla Constalle di Berna, dove lui era direttore, di fatto cambia anche la grammatica, la sintassi delle mostre stesse, ovvero non più allestimenti tradizionali, quindi non più quadri alle pareti, non più sculture in mezzo, ma una sorta di grande visione d'insieme di opere che vogliono necessariamente, devono necessariamente confondersi con la vita vera. E lo stesso Germano Celant, appunto il compianto Germano Celant, per cui non ci stancheremo mai di ricordare quanto sia stata importante la sua figura nell'arte e nella cultura italiana dei nostri tempi, ebbene occupò per un lungo fine settimana la roccaforte militare di Amalfi, una delle quattro repubbliche marinare, con questa mostra arte povera, azioni povere, che tra l'altro si espandeva nello spazio della cittadina, fino addirittura nel mare, con una bellissima installazione performance di Jan Dibbez, che mise una linea di colore bianco nel mare, ma questo è molto importante, la performance sarà oggetto di una trattazione specifica. L'arte povera, come vi dicevo prima, fa un po' da collante, con l'esperienza sia del minimalismo, di cui abbiamo accennato poc'anzi, ma anche con quella della land art, perché la land art a tutti gli effetti è una riflessione sul paesaggio, sui grandi spazi, che viene dalla cultura americana, la cultura americana, che ha evidentemente un rapporto diverso rispetto al nostro con la tradizione, si presenta con degli spazi immensi, giganteschi, eccetera, eccetera, land o earth hanno più o meno lo stesso significato, ovvero terra, e dalla terra nella terra alcuni artisti verso l'inizio degli anni 70 realizzarono dei lavori memorabili, tra cui Walter De Maria, con un concetto in realtà non poi così di simile o tanto lontano da quello della lampada annuale, realizzò questo gigantesco lighting field, un'installazione che è ancora lì, permanente, in uno spazio desertico del New Mexico, per andarla a vedere bisogna intraprendere un viaggio lunghissimo e arrivare a destinazione dopo due voli aerei su delle jeep, insomma, a morale cosa succede? Ci sono oltre un centinaio di pali piantati nel terreno con la punta acuminata, una specie di distesa di questi pali altissimi, se dovesse piovere, se dovesse scatenarsi un temporale, ma è molto difficile che ciò avvenga, in quanto siamo nel New Mexico, in una zona assai poco piovosa, tutti questi pali eserciterebbero sostanzialmente l'effetto di un campo magnetico e quindi attrarrebbero l'energia dei fulmini. L'opera d'arte quindi andrebbe a completarsi solo in determinate circostanze, rare ed eccezionali. Un altro lavoro molto importante è quello di Robert Smithson, Spiral Jetty, una grande spirale di terra, fango, detriti, che Smithson realizzò in un lago salato dello Utah, che è ancora lì, un po' con l'idea che l'uomo riesce a portare addirittura un proprio segno nel paesaggio e a cambiare il corso delle cose, misurandosi così con degli spazi molto più grandi, di spazi infiniti come quelli appunto della terra, del paesaggio, che non sono certo nella galleria, nel museo e che tra l'altro prevedono un'ingegnerizzazione dell'opera d'arte che è molto complessa. Quando si realizzano lavori di questa portata ci vuole un sacco di gente che offre la propria competenza perché si capisca se davvero certe cose si riescano a fare oppure no. Per riassumere, arte concettuale, minimalismo, arte povera e land art appartengono più o meno allo stesso periodo storico e alla stessa famiglia di espressioni che fanno da ponte a quella tipologia di arte ancora comunque legata alla tradizione, quadri, sculture, disegni eccetera eccetera, e avanzano verso il nostro tempo. Ormai la porta del contemporaneo di oggi, del super contemporaneo insomma, si sta aprendo. Mi rendo conto che certe volte alcuni discorsi potrebbero sembrare un pochino più difficili da catturare e da soffermare, ma vi assicuro che invece la sfida del contemporaneo è completamente affascinante proprio perché vuole in qualche misura rovesciare l'assunto a cui noi siamo stati abituati da tempo, che l'arte sia semplicemente solo contemplazione. L'arte è tanto altro e noi sempre di più siamo protagonisti all'interno dell'opera.